Per una Calabria migliore, finestra aperta sull'Europa, che tente il rilancio verso nuove opportunità e finanziamenti, nasce a Cosenza l'Infopoint Europa, voluto dall'Associazione Culturale Calabria Terra Libera, un progetto di consulenza informativa e tecnica face to face contro le marginazioni e i soliti clientelismi, che reprimono le svolte ed incatenano i giovani calabresi. Noi apriamo una finestra sull'Europa, mettiamo a disposizione qui un punto di informazione sulle possibilità dei finanziamenti, perché quelle idee abbiano appunto la possibilità di realizzarsi attraverso quelli che sono i canali diretti, che molta gente non sa e non sono soltanto i cosiddetti cofinanziamenti. L'Infopoint, aperto da lunedì al venerdì, offre opportunità ai giovani o a chiunque voglia investire, dando loro informazioni attraverso brochure e seguendo da vicino i percorsi di realizzazione dei progetti. Noi offriremo una consulenza informativa su quelli che sono i finanziamenti che la Comunità Europea mette a disposizione. Si parte quindi dalla parte informativa accompagnandoli mano a mano lungo tutto il percorso che devono affrontare per raggiungimento del Fondo Europeo oppure anche degli altri tipi di finanziamenti che la Comunità Europea comunque mette a disposizione. Rossana Muraca per la CNews24. Rossana Muraca per la CNews24.